Caro amico ma soprattutto cara amica di Saviano, tu a Febbraio tiene che fa perché è un mese dove ci si diverte, perché ci sto io, qua nel cartellone del teatro dell'auditorium di Saviano, vedete io sto il 25 febbraio, ci sarò io insieme anche altri colleghi in altre date, venitevi a divertire, dovete venirvi ad abbonare perché venire a teatro fa bene a saluto, soprattutto il 25 febbraio perché c'è uno spettacolo fatto di scherzi, parodie, monologhe, canzoni molto vario e molto divertente, vi aspetto in tanti, ciao!